Siamo con Don Luigi Maiulo, il parroco della chiesa di Santa Venere del Principio, in occasione della festività di Sant'Anna. È sempre un motivo di gioia ogni anno rincontrarci per festeggiare la festa dei Santi Gioacchino e Anna. Un motivo di gioia perché tanti nostri cristiani vengono con devozione ai piedi dei Santi per chiedere soprattutto la pace del cuore e per chiedere l'amore verso Dio e verso il prossimo. Così vogliamo vivere questa giornata. Fin dalle prime ore di stamattina, molte persone si sono accostate al sacramento della riconciliazione e dell'eocaressia. Che i Santi Gioacchino e Anna ci aiutano insieme a vivere questo momento non bello, ma sicuri che saremo a tu per tu con il Signore alla fine di questa nostra vita. Rispetto agli ultimi anni che hanno visto molte restrizioni, come vivere il popolo di questa parrocchia, questa nuova giornata di festa? Ugualmente come negli anni passati, anche quest'anno ci siamo mantenuti alle normative, molto spazio all'aperto, in chiesa alcune persone, proprio perché è un tempo che molti sono contagiati da questa infezione. Il programma della giornata quale sarà? Adesso ci prepariamo alla conclusione, stasera alle 18.30 la preghiera di Santo Rosario, alle 19 la missa all'aperto, con la benedizione della ririqua di Sant'Anna e la conclusione con i fuochi d'artificio. Un augurio a tutto il popolo torrese? E di diventare più santi che ne abbiamo bisogno.